Concessioni demaniali marittime rilasciate con atti falsi, gare di appalto per lavori di riqualificazione urbana truccate, conferimento di incarichi professionali in conflitto con gli interessi dell'ente. Con queste accuse la Guardia di Finanza, su ordine del GIP del Tribunale di Foggia, ha arrestato e posto ai domiciliari due dirigenti del Comune di Peschici. Per altre sei persone indagate è scattata l'interdizione di 12 mesi dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione. Si tratta di un dirigente e un tecnico del Comune, due avvocati e due imprenditori. Dell'argomento si è parlato a margine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi a Monte Sant'Angelo. Ci sono purtroppo amministrazioni che sono state sciolte per mafia, più di 100 interdittivi antimafia, quindi l'azione dello Stato è corale, l'azione dello Stato è convinta. dopo l'incendio dell'auto dell'assessore Rignanese e dopo altri atti intimidatori contro alcuni commercianti. C'è una strategia che naturalmente vi spiegheremo su questo territorio in maniera più decisa, in maniera più attenta. E nell'ambito di controlli e perquisizioni a tappeto sul Gargano e a Sansevero, una persona è stata arrestata, altre sono state denunciate per droga e possesso d'armi.